Ciao ragazzi, non siamo i BokoGamers, io sono Tsuki E io sono Ryozan E dobbiamo fare in fretta perché sta per cominciare l'award di Sino Alice Esattamente ragazzi Però mi piacciono queste capelli e quindi non metto così Ma LOL Tsuki E niente raga, non perdiamo troppo tempo, eccoci qua Salutate YouTube Ciao YouTube Io sono Ryozan, è un piacere Allora oggi vi faremo vedere come funzionano le wars Allora speriamo che gli avversari non siano troppo equipaggiati raga perché altrimenti ci menano malamente Quindi speriamo di non prenderle malamente Nel frattempo raga fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del gioco Supportate la serie con tanti mi piace E adesso vediamo un attimino, 9 secondi al via raga Mamma mia, mi sta venendo l'ansia A me no Dai Ryo rompi Pinocchio E Pinocchio sia Lo prendo io Io rompo Cenerentola, mi sta antifatica Però pare che Onno sia l'ultimo, quindi è meglio Vediamo un po' Ok, Pinocchio è rotto Io ho mantenuto la promessa, pesciolino E adesso becchiamo questa Cenerentola Hai risuscitato Pinocchio Sì Maledetto Visto che sei risuscitato Come potete vedere è una zuppa tra player Boom Ed è divertente perché puoi giocare con le persone Allora Oh Pinocchio sembra più resistente adesso Maledetto Vedi come ti legno Tu Zuki, chi stai legnando? Io con quello in basso ce l'ho Con Maiki Mi sta antifatica Allora Vediamo un attimino Di dargli Una lezione a questo Allora si resetta Come è finita il costo Mi sa che dovremmo farla anche noi E infatti la faccio io No, non la possiamo fare Perché? Forse perché c'è già la loro Chi l'ha detto? Ok Li abbiamo uccisi Ok Il primo è il costo Io faccio un po' di SP recovery Allora Quando finiamo il costo raga Possiamo fare la stessa cosa della purification Per intenderci Solo che qua ci ricarica il costo L'SP Adesso glielo farò vedere io Perché devo fare il recovery Praticamente qua non si ricarica col tempo Come negli scenari normali Per cui bisogna fare questa cosa E sta facendo anche Zuki Veloci 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 Ok posso tornare in battaglia Com'è la situazione Rio? Che sono resuscitati sti maledetti Maledetti Avete rotto Non resuscitate Restate morti Che fastidio Sta gente che resuscita Dove andremo a finire? Oh mi stanno anche legnando male Oh Arrivo subito a darvi manforte Ti serve un healer però Mi sa Arrivo Aiuto Ok qualcuno mi ha curato Io faccio anche da healer Qualcuno mi ha curato Non so chi Ma ringrazio E adesso che sono quasi morto Dai 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 Ti ho anche baffato Rio Grazie mille Così Dai mori Devi mori Mori Non ho grandi staff da healer Perché io sono più un mago Beccati questo C'è da divertirsi ragazzi Ok ne è rimasto solo uno Dai 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 Io baffo La spada Mamma mia però No quello là in alto È un maledetto Eh se c'è stato di nuovo Quello in mezzo Che ansia Oh mio dio Mori Stai morto Devi morire Oh ma stanno sempre evocando Sti maledetto Sì siamo noi che non stanno evocando Adesso Come ricarico il costo Evoco io va Che ci servono un po' di buff qua Mi sembra se ne stanno approfittando Eh diciamo che noi ancora non siamo espertissimi Quindi facciamo un po' le cose alla carlona Ok ho picchiato i primi due Ma me l'ho ucciso Mi vedo morto Come avete usato Sì anche io ti vedo morto Ok 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 Qualcuno mi cura? Eh io ho finito gli SP Dunque ragazzi Queste war Sono davvero divertenti Sì ma se ne sono approfittati È che io non c'ero Per ammazzarmi Beh altrimenti Che gusto c'è Sapevano che non ci sarebbero riusciti Ok Ok ritorno Dai Dai Adesso scopo ho visto chi mi stava targettando Ovvero tutti Perché se la sono presa con me Non l'ho capita Però Quello che vorrei capire anche io Ma amore Zitto Pinocchio Non me lo fate uscire così Evochiamo la skill Allora Quando c'è la demon chance Raga Così Bisogna usare Le skill Non ci credo Ma dai Bisogna usare le skill Che compaiono Diciamo Svilucicose Per ingraziarsi Il demone Che poi si andrà a evocare In modo che vada contro il nemico E non contro di noi Cioè Siamo riusciti a farci ammazzare Ma seriamente Maledetti Questi giocano bene di supporto Eh sì Noi servono dei supporto Eh Eh lagga un po' in effetto Sì è vero Ma È lagga perché lagga il gioco Ciao mamma Sono famosa Grande Nofi La chat ve la faccio vedere nel frattempo 5 secondi hai Sì Faccio così Ok 0 secondi Fatto Se non lagga Ecco qui Adesso mi avete rotto Mi ha rotto un sacco Come vi siete permessi Adesso Vi spacco in due Fate schifo Oh ma un libro Mi capita Ah Ed eccoci Adesso siamo arrivati A questo bellissimo Tezzo Allora adesso il compito è fare danno Alla nave avversaria Che ci farà fare punti Così Distruggendo la nave Si fanno un belicunte Comunque si sta laggando dannatamente Sì ma è colpa del gioco Anche nei primi giorni Laggava tantissimo Infatti io spero che risolvano E io la scoppo un po' Ok un secondo Eeeh Ce l'abbiamo avuto noi No Non è ancora finito Sono in vantaggio loro Maledetti Ma se mi spuntassi un libro Magari Cosa No Ce l'hanno preso loro È che mi stava sfigando Cosa c'è da un assoluto Quelli che ti Che brivi Eh Eeeh Dai Mori Eh dai ma chi è che cura loro Non lo sono organizzati Sti maledetti Vai Alice Guarda quanto sono bello Bellissimo Cioè ma siamo noi Com'è possibile C'è qualcosa Ci stanno massacrando Sì ma fanno schifo A fare punte Sì ma io non capisco Come sono facciano An ammazzarci così Deve avere un healer Che li sta curando Sì Dalle retrovie Probabilmente Perché non capisco Dai il vivario Non è molto No infatti Però ci stanno Me andando male Eh Sai che adesso Lascio stare Pinocchio E picchio Anch'io Ce n'è retola Sì è maledetta Infame Infatti Quella vuole buttata giù A tutti i costi E con Pinocchio Non è che sta facendo Questo gran che anche Perché è sempre morto Lo curano Vediamo un po' Raga Se riusciamo A migliorare Questa war Io ci credo ancora Beh appunti Siamo lì Quindi Fatti Mi piace sempre Il pallino su di te Per curare Grazie Lol Sì Punti Però io non ho costo Quindi ricarico al volo E arrivo Che l'ho usato tutto Per buttare giù Guarda maledetta Eh pure io Ok io sono In battaglia Vai Attacca Siamo in vantaggio Che è rotta Dai che è rotta Ok Loro si saranno Loro si saranno E' rotta Altrimenti Vediamo un po' Dai Nav Non ci mollare In questi 8 secondi Mamma mia Ok siamo tornati Ma l'hanno distrutta? Sì Sì l'hanno distrutta Proviamo a recuperare Vabbè Siamo solo 4k Assorto Come hanno fatto Uccidermi così? Sono così Shottato Maledetti Come avete usato? Carica ah ebbi e proiettile, non ne ho di quelli ok io ce li ho quindi oh ma loro caricano più di noi come cavolo fanno di chi era ok vai vai dai rio ok si li abbiamo anche distrutti avanti ragazzi vado a riparare un po' di punti comunque no, ci hanno distrutto maledetti conviene anche tenere un po' di costo per usare perché qui dobbiamo evoccare se ci prendono il demone di nuovo ci fanno tanta bua dai allora faccio così a 20 vado a fare esser di recovery esatto anzi adesso che siamo un vangaggio rimancio rimancio mamma mia ragazzi molto combattuta questa ci piacciono le war combattute ok sono trovato giusto in tempo c'è un certo che abbiamo fatto zero danni adesso e avranno qualche avranno qualche scuro è probabile dai rio facci vincere il demone ci provo contiamo su di te ci provo però a me che mi stanno sacconiando di botti come si suol dire dai è il nostro uno batti così così beccatevi lui qualunque cosa sia non sappiamo cosa sia ragazzi meteor ve brucia ve brucia da adesso giù 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 più o meno ok perfetto avanti ragazzi siamo un group iper mega vaffati distruggiamogli la maledettissima nave ma perchè laga cribbio ci mette due anni per mai di prendere il comando che fastidio forza ragazzi la nave è praticamente giù io vi lascio e vado a ricaricare il costo così poi li legno in campo tanto la nave la buttate giù tranquillamente si buttata giù immaginavo e torno in battaglia a carico di costo cioè guardate il vipario oh ma l'hanno shottato ho provato a buffarti per evitare che ti buttassero giù stanno prendendo di mira perchè stai facendo danno molto probabilmente eh ho capito ma l'hanno shottato cribbio eh io vi abbandono un attimo dai fammelo usare una skill cribbio morti ma morti vabbè io sto ricaricando sp adesso puoi dire speriamo davvero di reggere com'è la situazione shi spai che sto ricaricando un attimo il costo e te lo dico lo vedo io ma la stanno appena sminuzzando si è bella carica siamo ampiamente in vantaggio abbiamo due minuti e mezzo di war raga perchè le war durano esattamente venti minuti dai dai ci carichiamo dai raga stiamo andando bene ok perfetto perfetto adesso è tempo di picchiare come non ci fosse un domani come non ci fosse un domani vi siete divertiti con la nave è vero vi siete divertiti con la nave adesso ci divertiamo noi dai dai mi stanno prendendo di mira questi eh perchè fai un sacco di danno nonostante tu sia tra i più bassi di noi si infatti non è che abbia questo gran ghia eh il problema è che hai le armi giuste io sono piena di SA più che altro c'è anche l'esperienza che è un gioco molto simile a uno che abbiamo già giocato eh già maledetti mori devi mori 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 dai ok dai raga finisce così con noi che massacriamo la nave avversaria dai che è vinta a prescindere abbiamo un vantaggio astronomico dai voi nonostante tutto però vedi una volta che ho iniziato a cambiare bersaglio si altro che pinocchio bisognava picchiare quella lì che ci stava mettendo in difficoltà vi ho fatto vedere chi è la vera cenerentola chi è la vera cenerentola si stava rubando il lavoro esatto una cinderella c'è solo una cinderella ultima resa dei conti ce la facciamo arrivare a 60 sì dai 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 ok 60k così ultima resa dei conti ma sì abbiamo 18 secondi è vero ultima resa dei conti dai dai guarda lì sento una cosa scandalosa ti temono sento una cosa scandalosa è finita è finita grandi ragazzi grandi ragazzi anche se non si può scrivere adesso grandi ragazzi una bella vittoria 60 quasi 61.000 a quasi 38.000 list cioè niente male chi era on? nessuno dai impossibile ma non ci credo no impossibile sono come sono un po' buggati ancora sì per forza per forza cioè stavano combattendo e menando altrimenti sono stati off non sarebbe mai successo anche perché abbiamo già visto che i personaggi off rimangono fermi esatto bravitemi grandi raga grandi raga grande ruffi che avete dilettanti e niente ragazzi e niente oggi ci fermiamo qui speriamo che vi siano piaciuto come funziona il Colosseo su Sino Alice è la parte più divertente del gioco come avete visto se volete che vi portiamo altri video di questo genere scriveteciò nei commenti e spollicciate tanto raga che ci serve per supportare la serie esatto tanti pollici in su coraggio dai dai e niente prima del prossimo video di Sino Alice e Zucchi vi invita seguici su tutti i nostri prof i social che troverete nei link in descrizione iscrivetevi al canale condividete e mettete il piaccio e attivate la campanella supportateci con tutte queste azioni e noi ci vediamo alla prossima alla prossima ciao ehi tu si proprio tu non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo non vorrai mica far arrabbiare bocco non sei ancora iscritto al canale in alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta cliccaci sopra e attiva la campanella non preoccuparti non attiverà stranessone idee ma ti avviserà non appena sarà disponibile un nuovo video in alto nei due lati invece troverai due video scelti apposta per te e con le mie zampette grazie per aver seguito fino alla fine ci veniamo alla prossima